si è fermato il video si vede che altro frungo si mettono gli occhi no veramente sotto scusatemi ma dove vanno questi brillantini ma solo dalla figura ma vanno sopra così e l'altro quindi un video di più di mezz'ora non te lo fa fare non ho mai saputo così e ci metto l'altro ok e poi si attaccano i due fiorellini vicino alle orecchie quindi di nuovo lo scorcio di adesivo e lo metto qua così e poi per finire l'ultimo bisogna mettere un po' sul corno perché fa abbastanza schifo ok e lo attacco qua e poi per finire il cordoncino dorato ok 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 che non riesco di infilare la c'ho fatta la c'ho fatta in teoria è venuto così tutto luccicoso ok scusate per la lunghezza del video anzi dei video quindi questo trucco l'ho preso da Tiger ogni pallina 2 euro se questo video vi è piaciuto mettete un bel like pollice nel nissù e iscrivetevi al mio canale ciao ciao